Giovedì 21 settembre ci troviamo a Perugia per un nuovo workshop ed info progetto organizzato da Action Group Editore si parla del futuro dell'edilizia. Progettare e riqualificare l'edificio impianto in chiave sostenibile. 200 progettisti hanno partecipato a questa giornata di formazione tante le aziende che hanno potuto raccontare le novità presenti oggi sul mercato e allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Per noi è un piacere poter oggi così essere speriamo profeti in patria facendo conoscere oltre all'azienda che è sicuramente già nota e consolidata anche qui localmente far conoscere questa nuova tecnologia Geodry innovativa ma anche di ormai sicura affidabilità perché comunque è innovativa ma non è nata ieri ormai negli ultimi anni ne sono stati posati in tutta Europa decine di migliaia di metri quadrati con ottimi risultati e sicuramente quindi adeguata anche ad interventi nella nostra terra sia in caso di nuove costruzioni che di ristrutturazioni di edifici esistenti. Possiamo dare praticamente risposta a un po' tutte le richieste le esigenze di impermeabilizzazione all'interno dei manufatti edili dei fabbricati dalle coperture piane inclinate terrazzi lastrici solari balconi passando per gli ambienti umidi interni e quindi bagni box doccia saune spa spogliatoi fino ad applicazioni più particolari quali vasche di piscine, cisterne per il contenimento di liquidi, canali di scolo, pareti contro terra, fondazioni e via dicendo. È per noi come dire gratificante e anche stimolante il riscontrare questo interesse perché effettivamente significa che oltre a dare crediamo una risposta come dicevo efficiente, duratura, garantita nel tempo significa anche che il settore di intervento richiede davvero una innovazione tecnologica prestazionale rispetto a quelle che sono ormai le tecnologie tradizionali che purtroppo mantengono i loro limiti ormai da tempo. Ecco con questa tecnologia si riesce a superare questi limiti, questi difetti di altri tipi di impermeabilizzazione con un unico sistema che si basa sull'uso di membrane e pezzi speciali prefabbricati la cui tenuta è garantita dal produttore.